Buongiorno a tutti, io evidentemente sono quel signore lassù, Italo Vignoli, ma credo che la mia faccia ormai sia abbastanza conosciuta da tutti quelli che bazzicano intorno al progetto. Queste sono un po' le cose che ho fatto nella mia vita, però non è che vorrei fare un escursus di quello che ho fatto, se avete poi delle domande ovviamente. Il gruppo dei fondatori che è basato molto sul gruppo di progetto di Libre Umbria e non casualmente mi ha incaricato della carica di Presidente Onorario di Libre Italia, io sono anche consigliere e quindi sono anche un po' il trade union con la Document Foundation che è la fondazione di diritto tedesco che è alle spalle di Libre Office. Io farò un po' di escursus storico di Libre Office a partire dalle radici, le radici sono Open Office, è un progetto che è nato nel 2000 e è iniziato ad avere qualche problema nel 2009 ed è finito nel 2011, ha dato origine a due fork, uno è Libre Office e l'altro è Apache Open Office. Il Libre Office è il fork della comunità, Apache Open Office è il fork di IBM. Perché questo? Poi vi darò anche le motivazioni. Allora, Open Office è nato nel 2000 quando Sun ha acquisito Star Division che era l'azienda tedesca che aveva creato Star Writer nel 1985 e poi successivamente gli altri prodotti e nel 1999 Sun aveva acquisito questa questa azienda che era all'epoca totalmente tedesca, non solo aveva sede ad Hamburgo ma era proprio un'azienda che non aveva una grande cultura internazionale. Sun l'ha acquisita nel 2000, quindi un anno dopo, ha deciso di prendere il codice sorgente di prendere il codice sorgente e di donarlo, di trasformarlo in un codice LGPL e di darlo alla comunità, quindi è l'annuncio del 13 ottobre 2000. Nel 2001 c'è stata la release 1.0, poi siamo arrivati diciamo dopo dieci anni circa, nel 2009 c'è stato l'annuncio dell'acquisizione di Sun da parte di Oracle che è stato, siccome le due aziende erano quotate in borsa c'era poi necessità di un periodo di almeno sei mesi che però è stato anche leggermente più lungo, perché le azioni Sun hanno dovuto essere convertite, ritirate dal mercato convertite, quindi alla fine è successo che il 27 gennaio 2010 Oracle ha chiuso l'acquisizione di Sun. La comunità però aveva già visto che quando era stato fatto questo comunicato stampa, quello del 2001, Sun aveva scritto nel comunicato stampa che sarebbe stata creata una fondazione. In realtà poi questo non è mai avvenuto. Sono successe però nel frattempo alcune cose. Allora queste erano le dipendenze di Star Office nel 2000. Questo è Star Office 5.2, quindi è il codice che è stato poi trasformato in Open Office 1.0. Chiaramente il codice era frutto di una serie di aggiunte successive, non c'era una strategia di sviluppo molto aggressiva. Quando Sun ha acquisito il software la strategia di sviluppo è diventata più aggressiva e quindi sono aumentati, il codice è iniziato a crescere. Nel 2005 questo era il codice di Open Office. Questa presentazione è una presentazione fatta, sono slide di una presentazione fatta da Michael Bemmer, che era il responsabile della star divisione nel 2006 alla conferenza di Open Office di Lione nel 2006. Chiaramente io non sono uno sviluppatore, non sono un tecnico, mi occupo e mi sono sempre occupato di marketing e comunicazione. Però quelli di voi che comprendono le cose tecniche, poi non ci vuole molto anche visivamente a capire che il prodotto si era un po' incasinato, per usare un termine proprio umano. Chiaramente all'interno del progetto c'erano una serie di sviluppatori che avevano accesso ai repository e avevano capito che c'era una tendenza un po' all'incasinamento, diciamo così, del codice sorgente. E nel 2005 alla conferenza di Capodistria ci sono state un po' di discussioni su quello che si poteva fare. E nel 2006 Michael Bemmer ha fatto vedere queste slide e ha fatto vedere anche questa slide. Ma questa slide non è un caso che diceva community building, perché? Perché la comunità che nel frattempo era cresciuta, era migliorata, anche non qualitativamente, ma era migliorata numericamente, le persone che erano entrate nella comunità nel 2000, le primissime sono in Francia, una delle prime in assoluto è Sophie Gauthier, che oggi è di fatto la segretaria generale della Document Foundation, quindi comunque rimane all'interno del progetto a distanza di 15 anni. Quelle persone avevano iniziato, perché OpenOffice è stato il primo progetto di software libero, che non era strettamente legato alla tecnologia del sistema operativo. quindi non era un prodotto solo per Linux, era un prodotto che aveva la sua grossa base installata su Windows, e per il software open source e il software libero era un po' atipico. Chiaramente questo ha fatto sì che venissero cooptati all'interno della comunità persone, come per esempio il sottoscritto, che non avevano radici nel mondo Linux o nel mondo della tecnologia, ma avevano radici nel mondo dell'utenza normale. Chiaramente la comunità nel momento in cui si è organizzata ha iniziato a protestare, tra virgolette, in confronti di Sanna, soprattutto perché veniva ignorata. Allora, c'era un community manager all'epoca di Sanna, che eviterò di dire il nome perché è un caso umano e quindi è antipatico, la persona è ancora vivente ma continua a essere un caso umano anche adesso che non c'è più la comunità di OpenOffice. E avevano fatto, c'erano in particolare alcuni sviluppatori che avevano detto il codice sta diventando troppo complesso, le patch che non sono sviluppate dalle persone di Sanna vengono integrate in modo troppo lento. Rimane famosa una patch di Kohei Yoshida, che è probabilmente il miglior sviluppatore che esiste su Calc in questo momento, che è stata integrata 28 mesi dopo essere stata consegnata. Quindi 28 mesi è semplicemente assurdo, nel senso che la patch era già diventata vecchia nel momento in cui è stata integrata nel codice. Perché c'era da parte di Sanna una resistenza a fare, a integrare cose che non fossero fatte nelle segrete stanze di Hamburgo. E poi c'era il problema che il codice era difficile, mettersi a lavorare sul codice era complicato. La cosa buffa è che dal 2005 al 2010 queste tre cose non sono state fatte. E queste sono tre delle cose che sono state fatte dalla Document Foundation. Ma non perché la Document Foundation sia più brava, ma semplicemente perché è nata in un momento preciso, cioè poi questo ovviamente, io sono uno dei fondatori della Document Foundation, quindi sono decisamente di parte. Allora è nata in questo periodo, cioè OpenOffice all'epoca aveva raggiunto, nel 2008, OpenOffice aveva raggiunto una percentuale di quota di mercato che era superiore al 10%, secondo gli analisti, non secondo così. tanto che dal 2009 in avanti le ricerche che parlano di quota di mercato delle suite per ufficio non sono più disponibili. E il motivo per cui non sono disponibili è perché c'è un'azienda che compra tutte queste ricerche e non le pubblica. Ora è inutile che vi dica il nome di questa azienda, però vi posso dire che ha sede in One Microsoft Plaza a Redmond. Quindi noi pensavamo di essere arrivati a questo punto, cioè ci voleva un nuovo impulso per far crescere il prodotto. Il prodotto era eccellente, ma cominciava ad essere un po' stanco, cominciavano ad esserci un po' di frizioni, poi è arrivata Oracle che ha fatto un'acquisizione di Sun sicuramente non per acquisire Open Office ma in realtà per acquisire i server Spark su cui giravano i database Oracle del Ministero della Difesa Americana, del Pentagono, che è il più grosso cliente di Sun e ovviamente Oracle non voleva che i server Spark del Ministero della Difesa Americana andassero nei mani di IBM che era l'altro potenziale acquirente di Sun. E poi perché voleva mettere le mani su MySQL. Se voi avete visto lo sviluppo di MySQL, lo sviluppo di MySQL in questo momento è in uno stato che potremmo definire paludoso, nel senso che Oracle sì lo porta avanti ma chiaramente non lo porta avanti nello stesso modo in cui veniva portato avanti in precedenza. Quindi il 28 settembre quindi Oracle acquisisce Sun questo è il comunicato stampa chiaramente due aziende quotate in borsa il comunicato stampa è necessario ma se andiamo perché qualcuno sostiene che l'acquisizione di Sun da parte di Oracle in particolare c'è un signore che frequenta le mailing list di Apache Open Office si chiama Fernando Cassia che è scusate il termine un imbecille di dimensioni industriali che sostiene che Oracle aveva delle strategie di sviluppo per Open Office allora non c'è neanche io gliel'ho anche fatta vedere ma lui è talmente cretino che non vuole capire qui queste sono le strategiche acquisition di Oracle qui non c'è Sun c'è tutto ma non c'è Sun non è un'acquisizione strategica è un'acquisizione tattica è un'acquisizione difensiva non è un'acquisizione per crescere il quadro di mercato è un'acquisizione per evitare che altri facciano crescere il quadro di mercato quindi c'è stato una chiaramente la comunità che non è fatta solo da cretini ma c'è anche qualcuno che sa leggere i bilanci si è andata a vedere cosa c'era scritto nei bilanci chiaramente ed era abbastanza facile capire le motivazioni per cui è stata fatta l'acquisizione quindi cos'è successo? La comunità ha deciso di prendere era inutile ci avevamo provato stavamo discutendo abbiamo discusso con Oracle abbiamo discusso prima con Sun abbiamo discusso con IBM chiaramente sono aziende a cui la comunità non piace tantissimo e nella comunità nella fattispecie io probabilmente sono quello che gli piace meno di tutti perché poi sono anche uno che non ha grossi peli sulla lingua e parla in modo abbastanza chiaro so leggere i bilanci quindi è difficile poi riuscire a farmi digerire cose che non hanno una motivazione economica per cui la comunità cosa ha fatto? ha preso quello che era questo era open office cioè c'era la comunità e sopra c'era un'azienda che faceva da ombrello e che di fatto gestiva la comunità la comunità a parte che c'era il community manager che è una roba cioè se è una comunità non si può mettere un manager i due termini sono antitetici ma al di là di questo era proprio cominciava ad essere castrata e ha fatto esattamente la rovesciata cioè la comunità è diventata un progetto meritocratico che non dove non c'è nessuno che comanda veramente comanda chi fa perché è giusto che sia così è un progetto libre office è un progetto di di software libero ovviamente il problema era che open office il copyright all'epoca era di oracle e quindi noi nel momento in cui abbiamo creato la document foundation non potevamo chiamarlo open office abbiamo deciso di chiamarlo libre office il software è stato preso è stato fatto un fork ed è stato fatto un fork con cinque principi di base che sono stati dichiarati in modo assolutamente preciso nel momento del rilascio che sono il fatto di avere una licenza copyleft anche se weak copyleft ma copyleft non permissiva le licenze permissive secondo il giudizio dei fondatori della document foundation non sono adatte a software come open office e libre office quindi non è una discussione sul merito sulle caratteristiche della licenza permissiva io personalmente sono contrario alle licenze permissive però non è un giudizio sul merito è un giudizio sul fatto che una licenza permissiva favorisce per in modo naturale le aziende all'interno di una comunità e una comunità come quella di open office è fatta più da individui che da aziende quindi penalizzando gli individui è una licenza inadatta noi siamo riusciti a far crescere tantissimo il parco degli sviluppatori perché gli sviluppatori sono all'interno di un ecosistema dove tutti sono uguali cioè non c'è Red Hat Google le aziende non sono più forti perché tutti sono obbligati a restituire alla comunità gli sviluppi che fanno comprese aziende che tradizionalmente non arrivano dal mondo open source e poi vi dirò i nomi non viene chiesto un contributor agreement chiaramente non è che questo significa che il codice viene preso così come viene il codice viene comunque analizzato tanto che siamo arrivati ad avere un livello qualitativo del codice che è assolutamente rilevante non so se avete visto gli annunci ma ieri siamo riusciti a scendere sotto il fatidico livello dello 0,01 difetti per mille righe di codice siamo a 0,002 quindi siamo realmente a livelli che nessun altro software open source riesce ad avere il più vicino è Wireshark che è a 0,1 ma tutti gli altri sono il livello di difetti sul codice sorgente il che non significa il numero di bug chiaramente i bug sono una cosa diversa una democrazia meritocratica dove le persone fanno vengono riconosciute per quello che fanno non c'è nessuno che ha il titolo di manager, direttore e così via la governance della comunità quindi la Dogumen Foundation è credo una delle prime fondazioni in assoluto ad avere membri che sono di fatto anche i proprietari una fondazione non può avere proprietari ma sono di fatto i proprietari della fondazione e sono quelli che possono eleggere ed essere eletti io sono un membro ci sono 22 membri italiani o 23 credo qualcosa del genere molti di loro sono in questa stanza e alcuni di quelle persone che sono in questa stanza se non si sbrigano a fare domanda di membership di quelli che non sono membri gli succede lo stesso che poteva succedere a quelli che hanno fatto adesso domanda di membership la stessa cosa vale per domanda di certificazione voglio dire vi aspetto sono qui in acquato io sono iscritto a tutte tanto per dare voglio dire non voglio fare quello che l'eminenza grigia io sono iscritto a tutte le mailing list della Dogumen Foundation quindi non me scappate nel senso io ricevo da info a tutte le mailing list per cui se c'è qualcuno perché qualcuno ha pensato di fare il furbo gli è stata data la risposta sulle mailing list italiane e ha scritto a info e quindi io ho ricevuto info lo riceviamo in due io e Florian Effenberger che è l'executive director della Dogumen Foundation per cui adesso non voglio fare come dire l'eminenza grigia ma mi viene riconosciuto un ruolo decoroso all'interno della fondazione diciamo così e poi la totale indipendenza siccome avevamo capito che avere un elefante nella stanza non andava bene abbiamo fatto in modo che l'elefante diventasse un elefantino quindi in tutti gli organismi decisionali della Dogumen Foundation c'è uno sbarramento a un terzo dei voti per gli appartenenti a una singola organizzazione questa stessa cosa è stata assolutamente riprodotta all'interno anche dell'associazione Libre Italia cioè non ci può non ci possono essere il board della Dogumen Foundation è fatto da sette persone non ci possono essere più di due che appartengono alla stessa azienda organizzazione comprese le organizzazioni non profit quindi per dando per assurdo che vengano eletti due membri della Free Software Foundation che voglio dire non avrebbero nessun interesse a controllare la Dogumen Foundation se ne venisse eletto un terzo il terzo dovrebbe lasciare posto al primo dei non eletti che non è della Free Software Foundation perché comunque abbiamo deciso di non guardare in faccia a nessuno cioè l'indipendenza è indipendenza quindi non è che può essere indipendenza nei confronti degli uni e non degli altri e questo chiaramente fa sì che e tutto questo non sono delle fantasie notturne dei fondatori della Dogumen Foundation sono frutto di dieci mesi di discussione e questo è un modello di business non sono fantasie notturne come sostiene qualcuno questo è un modello di business e è un modello di business che a quattro anni di distanza possiamo dire che funziona ovviamente c'è spazio per altri modelli di business per cui non sto dicendo che questo è l'unico o l'assoluto modello di business che funziona con software come LibreOffice ma questo funziona si è visto allo stesso modo che un modello di business basato sulla licenza permissiva non funziona noi lo avevamo detto c'è stato chi non ci ha creduto perché pensava che queste fossero recuperazioni notturne e mi dispiace a quattro anni di distanza oggi è un mese esatto che non ci sono più contributi in assoluto sul codice di Apache OpenOffice mi dispiace perché purtroppo è una fine sbagliata è una fine che ha voluto una sola azienda che si chiama IBM e alcune persone che hanno deciso di dare più fiducia a IBM che ai fondatori della Documen Foundation quindi questo è non sto vi ho già detto un po' di cose però vi invito a leggere vi invito a leggere lo statuto vi invito a leggere tutto perché come è ovvio che sia essendo un progetto di software libero è tutto pubblicato e poi se è andato a vedere il blog se è andato a vedere molte delle cose sono state ampiamente spiegate nel corso degli anni questo è il sito di LibreOffice ritorniamo al 28 settembre 2010 molto rapidamente allora noi avevamo all'epoca 20 sviluppatori era chiaro erano gli sviluppatori che dopo il fork erano rimasti diciamo così attaccati al LibreOffice erano quelli di Suse quelli di Red Hat ovviamente con 20 sviluppatori e qualche volontario ma pochi perché perché i volontari con la gestione San i volontari erano abbastanza pochi poi se volete andare a vedere ci sono tutti i numeri sono stati scritti sono state fatte le analisi chiaramente nel periodo San però è ancora tutto pubblicato avevamo una ventina di sviluppatori sapevamo perfettamente che con 20 sviluppatori un codice come quello di LibreOffice non poteva andare avanti così come non poteva andare avanti neanche il codice di OpenOffice nel caso specifico quindi cosa è stato fatto i due leader uno molto più estroverso e uno molto più introverso del progetto lato sviluppo che poi sono Michael Mix che all'epoca lavorava in Suse adesso lavora in Collabora e Kaolan McNamara che lavora in Red Hat hanno speso il mese di agosto 2010 a creare quelli che poi sono stati definiti gli Easy Hack gli Easy Hack sono semplicemente il codice di LibreOffice di OpenOffice è un codice monolitico molto grosso sono circa 10 milioni di righe di codice non è facile orientarsi al suo interno loro cosa hanno fatto hanno fatto praticamente una atomizzazione dei contributi li hanno veramente divisi al punto tale che io ne ho 8 cioè il fatto che io abbia 8 contributi sul codice è significativo significa che hanno fatto 8 robe che sono talmente facili che riesco anche a farle io perché ripeto io non ho assolutamente nessun tipo di cultura tecnologica sono laureato nel 1978 in lettere quindi non ho background di quel tipo questo cosa ha fatto sì ha fatto sì che le persone trovassero facile arrivare sul codice trovassero qualcosa di semplice da fare e quindi potessero anche essere cioè dimostrare quello che potevano fare agli sviluppatori più senior poi chiaramente hanno speso un sacco di tempo a fare mentorship quindi a fare proprio ad aiutare le persone ovviamente abbiamo avuto anche delle fortune perché poi come si dice la fortuna aiuta gli audaci i 16 fondatori che sono 16 incoscienti ovviamente perché immaginatevi voi fate un fork di un prodotto che ha 10 milioni di righe di codice i vostri concorrenti cioè quelli che non sono d'accordo sono Microsoft Oracle e IBM infatti ho detto è come lanciarsi senza paragadute dal salto Ankel che è la più alta cascata che c'è al mondo dove in fondo c'è un laghettino profondo 3 metri dicendo faccio il tuffo laggiù il salto Ankel è alto 910 metri quindi fare il tuffo su 3 metri però noi ci siamo arrivati adesso l'abbiamo presa di pancia ovviamente perché non è stato facile però ci siamo arrivati cos'è successo è successo purtroppo devo dire una cosa che non è piaciuta a nessuno di noi è stato il fatto allora San aveva fatto con IBM un contratto un contratto scadeva nel 2000 non è chiaro se alla fine del 2013 o all'inizio del 2014 chiaramente però Oracle aveva ereditato il contratto con IBM e quindi nel momento in cui Oracle ha deciso di dismettere Open Office perché era chiaro che Oracle l'avrebbe dismesso voglio dire alla conferenza di Orvieto del 2009 Oracle ha mandato non un dirigente ha mandato quello che gli americani chiamano executive cioè un signore senza budget allora se tu alla conferenza di Open Office mandi un signore dalla corporation che non ha budget significa che a te di Open Office non te ne frega assolutamente niente se ti interessa Open Office mandi il Vice President che è quello che ha il budget io ho lavorato in un'azienda americana queste sono cose chiarissime cioè non c'è bisogno di andare a studiare cose particolari gli americani se sono interessati a un prodotto mandano uno che ha il budget se non sono interessati mandano uno che non ha il budget perché semplicemente poi vogliono che quel prodotto venga gestito ma non mantenuto quindi Oracle ha chiesto di fatto a IBM che cosa fare e IBM che ha sempre avuto una tradizione di uso di licenze permissive IBM aveva fatto Symfony che era un prodotto che derivava da Open Office con la versione 1.0 di Open Office perché la versione 1.0 di Open Office era rilasciata anche con una licenza permissiva che si chiamava Sysl che era Sun Industry Software License e qualcosa e poi aveva tenuto il codice di Symfony sulla versione 1.0 di Open Office che era un'antologia di bug fino al 2009 ma molto semplicemente fino al 2008 perché non voleva usare la versione LGPL che avrebbe costretto IBM a condividere con la comunità tutti gli sviluppi poi nel 2008 ha firmato questo contratto con Sun che permetteva IBM di ignorare la licenza LGPL e di rilasciare un prodotto proprietario quindi Oracle pubblica non è neanche un comunicato stampa pubblica una roba sul blog che dice abbiamo deciso di trasferire Open Office ad Apache Software Foundation perché la licenza Apache è una licenza permissiva ora io sulla licenza permissiva ho due teorie che sto sviluppando una che è la licenza dello sceriffo di Nottingham e l'altra è che la licenza che il governo americano ha usato per fottere le terre agli Apache perché gli ha detto noi adesso condividiamo tutto dopodiché a un certo punto gli ha detto ah no vabbè ok adesso diventano proprietarie sono nostre voi vi mettiamo nelle riserve e quindi così è nato il concetto di Apache License secondo me IBM voleva la licenza permissiva tanto che in 20 minuti dopo la IBM normalmente Massimiliano Zagaglia che è un giornalista che è lì poi ve lo può confermare IBM ci mette 15 giorni a rilasciare qualsiasi dichiarazione da parte ufficiale dell'azienda in 20 minuti hanno fatto un comunicato stampa tre post su tre blog che si linkavano ciascuno a vicenda ma non solo hanno preso un signore e gli hanno dato il titolo di program director a Apache Open Office tanto per non far capire che loro volevano controllare il progetto è ovvio che Apache e io onestamente devo dire devo sotto certi punti di vista ringrazio IBM di aver fatto questa mossa perché questo mi ha costretto a studiarmi Apache Software Foundation e mi ha permesso di capire che Apache Software Foundation più la conosci più la eviti cioè è un'azienda che ha il President che è un dipendente Microsoft che scrive da un Lumia e da un Surface con Windows 8 cioè cerchiamo di avere un minimo di decenza se fai il President di Apache Software Foundation eviti di usare il Lumia eviti di usare il Surface con Windows 8 puoi fare tante cose nella vita non è che vogliamo impedirtelo però eviti di fare il President di Apache Software Foundation uno dei Vice President è un altro dipendente di Microsoft l'ex President è oggi President della fondazione Outer Curve che è totalmente finanziata da Microsoft allora io poi uno dice tu pensi male però sapere che in Italia si dice che a pensare male si fa peccato però ogni tanto uno ci azzecca anche io onestamente e poi Microsoft rilascia tutti i suoi software open source con Apache License a me sono delle cose che mi danno un po' di fastidio poi probabilmente non ho totalmente ragione però dall'altro lato devo dire che noi abbiamo dimostrato che IBM aveva totalmente torto e questa è una dimostrazione chiara allora noi siamo l'unico progetto oggi ma vi posso dire che arriviamo a 51 perché ci sono già dei nuovi sviluppatori che sono arrivati a novembre questi sono questo è settembre 2010 questo è ottobre 2014 sono 50 mesi noi sono 50 mesi che abbiamo nuovi sviluppatori ogni mese che arrivano al progetto eravamo un po' preoccupati a dicembre 2013 perché erano solo tre ma come vedete sono di nuovo risaliti per cui l'effetto qual è? l'effetto è questo qui cioè in quattro anni è ovvio che non sono tutti non sono tutti attivi è un progetto di software libero la maggior parte sono volontari cioè pensare che sono tutti attivi è semplicemente ingenuo ma siamo arrivati a più di 850 sviluppatori che hanno contribuito al codice di LibreOffice alcuni di questi però sono rimasti tanto che questa è la media mensile come vedete sono gli ultimi 24 mesi ma sono quelli che contano sono prima era più alta quindi non ve li faccio vedere ma prima erano più alti come vedete siamo intorno tra gli 80 e i 120 questa è la media sui 12 mesi sta un po' scendendo sicuramente ma il progetto si sta anche consolidando e quindi il fatto che prima ci fossero più sviluppatori attivi su base annuale era semplicemente una funzione del fatto che c'era grande entusiasmo non è casuale infatti che se guardiamo l'andamento mensile dei contributi questo è in leggera crescita quindi gli sviluppatori sono diciamo di meno in termini numerici o qualcuno di meno ma comunque stanno contribuendo di più perché adesso c'è gente che lavora da 4 anni sul codice quindi è diventata più efficiente conosce il codice quindi è in grado di fare contributi in modo molto migliore sul codice prima ovviamente i nuovi arrivati non potevano contribuire tanto gli ci voleva tanto perché comunque non è banale scrivere fare contributi su un è un software importante sono moduli diversi cioè è comunque e questo allora questa slide così come l'altra viene da una ricerca fatta da un'università svedese allora questi erano i committer di open office 209 questi gennaio 2013 scusate quindi è un anno diciamo quasi due anni fa noi infatti adesso siamo a 850 questi sono i committer di libre office come vedete i 209 sono esplosi questi sono i committer di Apache open office ma non perché ripeto non è una questione di cattiveria è semplicemente che i volontari non vogliono andare non vogliono entrare in un negozio nel famoso negozio di cristalli dove c'è l'elefante perché se tu fai il volontario a meno che tu abbia una fortissima motivazione per esempio Pedro Giffuni un mito ha scritto la sua tesi di laurea è la licenza GPL e il diavolo allora io vorrei intanto conoscere il professore che gli ha accettato una tesi di laurea del genere perché sono cretini due lo studente che l'ha chiesto e il professore che gliel'ha data ma questo ha scritto questa roba qui è ovvio che poi lui contribuisce ad Apache Open Office e non a Libre Office perché se la licenza GPL è figlia del diavolo per inciso io quando sono stato a Cuba nel 1987 ho comprato un libro che era analogo che era il marketing è l'ico del demonio che è praticamente la stessa cosa cioè uno non può pensare che una licenza sia abbia caratteristiche demoniache o no è chiaro che le licenze sono ciascuna licenza rispecchia dei modelli di business e ciascuna licenza è funzionale al modello di business della comunità o del progetto che c'è dietro quindi non è che una licenza è migliore o peggiore intrinsecamente rispetto all'altra rispecchiano un modello di business l'end user license agreement di Microsoft Office rispecchia un modello di business la MPL di Libre Office oggi rispecchia un altro modello di business non sono cioè cerchiamo di evitare di pensare che le licenze vengano messe o appiccicate perché c'è qualcuno che si è svegliato la mattina e ha deciso che c'era la licenza la licenza è funzionale a fare certe cose e questo è il numero come è cresciuto il numero degli utenti come vedete ovviamente come era normale aspettate questo è da febbraio 2012 è ovvio che all'inizio la crescita era più lenta come dico spesso le prime versioni di Libre Office avevano un sacco di problemi ma lo sappiamo benissimo il problema è che noi abbiamo deciso dico noi ma ovviamente sono gli sviluppatori ma abbiamo deciso di prendere un codice che aveva 20 anni e cercare di svecchiarlo è ovvio che se cominci a togliere librerie che sono state deprecate a mettercene altre automaticamente i bug e le regressioni sono fatali non è che c'è un come dire un vaccino contro i bug e le regressioni per cui la Libre Office 3.3 Libre Office 3.4 erano sicuramente dei software che avevano delle importanti instabilità sono state corrette chi ha seguito l'evoluzione di Libre Office sa benissimo che le ultime versioni sono neanche confrontabili con le versioni precedenti in termini di stabilità di prevedibilità eccetera ma era ripeto sono tutte cose che sono state annunciate quindi dire quando esce Libre Office 3.3 ma ci sono i bug quando ti è stato detto abbiamo tolto 10 librerie deprecate e ne abbiamo sostituiti con altre 10 è del tutto inutile nel senso che è stato anticipato che è stato fatto un lavoro che avrebbe portato ad avere dei bug o una percentuale di bug maggiore rispetto al passato semplicemente perché smuovi il codice sorgente e trovi dei problemi però quello che è successo è che dal 2012 in avanti queste sono le varie infrastrutture strutture eccetera che hanno deciso di migrare a Libre Office altra cosa molto importante è l'advisory board l'advisory board c'è un'azienda italiana che è Studio Storti ma direi allora l'advisory board quando siamo partiti dentro c'erano Google la Free Software Foundation Red Hat e SUSE quindi c'erano quattro aziende adesso siamo a 15 o 16 sono arrivati Intel AMD sono arrivate questo è il governo francese questo è il governo del regno dell'Arabia Saudita queste sono tutte aziende che fanno valore aggiunto che sviluppano consulenza servizi per esempio Itomig e Cib lavorano con il comune di Monaco di Baviera la Nido ha lavorato anche lei con il comune di Monaco di Baviera adesso non so con chi lavora collabora fa dei progetti di sviluppo a valore aggiunto produce per esempio una versione con gli aggiornamenti incrementali per Windows CloudOn è un'azienda americana con centro di ricerca in Israele che ha portato su iPad LibreOffice ha preso LibreOffice perché ha capito che per andare su iPad bisognava completamente rinnovare l'interfaccia utente ovviamente è andata prima a chiederlo a Microsoft e quelle di Microsoft ovviamente gli hanno detto cucù come risposta per cui ha preso il codice di LibreOffice ha fatto un lavoro importantissimo sulla compatibilità con i formati di Microsoft Office e proprio perché c'era la licenza MPL li ha restituiti alla comunità quindi adesso noi ci troviamo un prodotto che è CloudOn per iPad che ha un'interfaccia quindi il layer di interfaccia è un layer proprietario che è quello sviluppato in modo specifico da CloudOn ma tutto quello che c'è sotto è stato condiviso da CloudOn che ripeto è un'azienda che viene dal mondo del software proprietario quindi non ha nulla non ha una cultura del software libero ma ha capito che per un prodotto come quello che voleva sviluppare era sicuramente funzionale il fatto di poter avere una comunità perché perché i miglioramenti che ha fatto su Office OpenXML CloudOn che sono tantissimi ma c'è stato il governo francese il comune di Monaco di Baviera e altri che hanno fatto altri miglioramenti e quindi CloudOn si è trovata a godere di miglioramenti che non sono stati pagati da CloudOn e che si è trovata sul prodotto quindi quando gli è stato spiegato chiaramente hanno capito che gli conveniva come dire gli conveniva dare gratis delle cose per averne gratis delle altre e chiaramente il fatto che sono cresciuti gli sviluppatori ha consentito di avere dei cicli di sviluppo è ovvio che nel software libero i cicli di sviluppo sono teorici però si è cercato c'è un engineer in steering committee che cerca di dare un certo tipo di organizzazione inquadramento allo sviluppo che viene fatto di LibreOffice questo si è tradotto in per esempio il filtro di importazione di Microsoft Visio fatto con LibreOffice 3.5 quello di CorelDraw LibreOffice 3.6 quello di Microsoft Publisher LibreOffice 4.0 la 3.7 non c'è stata la 4.0 è l'equivalente della 3.7 tanto che poi si è deciso di dar vita a un progetto che si chiama Document Liberation cioè lo sviluppo di queste librerie di compatibilità fa sì che le librerie di compatibilità che sono integrate dentro LibreOffice però sono disponibili visto che siamo un progetto di software libero queste librerie sono disponibili anche per altri prodotti tanto che la cosa se volete comica tra virgolette è che questa libreria quella che permette a LibreOffice di importare le presentazioni di Apple Keynote viene usata anche da Corel che è un'azienda di software proprietario per importare le presentazioni all'interno del suo programma di presentation e questi sono i vari formati adesso PageMaker viene introdotto con LibreOffice 4.4 ci sono Microsoft Works viene importato ripeto sono sempre con molte di queste tutto reverse engineering quindi ovviamente non sempre si il risultato finale è perfetto però come vedete ce ne sono parecchi ci sono diversi formati vecchi di macOS ci sono dei vecchi word processor che giravano su Macintosh che sono i cui file sono illegibili ma vengono letti da LibreOffice e dei formati di ebook quindi è stato fatto un lavoro e ovviamente essendo un progetto di software libero noi non vogliamo tenerci in casa quello che facciamo e quindi lo condividiamo per cui è stato fatto un progetto per cui c'è un repository git dove dentro ci sono le librerie che sono ovviamente le stesse di LibreOffice ma che sono pacchettizzate per poter essere integrate anche da altri software il lavoro che è stato fatto questo è il lavoro che è stato fatto da CloudOn in particolare cosa hanno fatto hanno fatto quella che si chiama roundtrip cioè io salvo il documento con Word lo apro con LibreOffice lo modifico lo esporto lo riapro con Word l'obiettivo è quello di avere lo stesso risultato e questo è se volete il lavoro che è stato fatto cioè sono stati fatti dei lavori di analisi quindi sono stati CloudOn ha catturato per ogni documento tutti questi dettagli quindi il numero delle pagine il numero delle parole perché ovviamente essendo poi entrambi formati basati su xml maggiore la corrispondenza degli xml migliore alla fine il risultato finale e quelli che vi faccio vedere adesso rapidamente sono i risultati cioè tenete presente che voi a sinistra avete l'originale questo è se volete il documento fatto con Word questo è il documento fatto con Word modificato da LibreOffice riaperto da Word come vedete perché ha fatto questo lavoro perché se voi avete risultati decorosi ma non buonissimi e avete un computer con la tastiera riuscite ancora a gestirvelo immaginatevi di avere un tablet dove dovete interagire solo con il touch se il risultato non è più che buono voi chiaramente vi ritrovate un documento che non somiglia all'originale e sul quale riuscite difficilmente a intervenire quindi il motivo per cui è stato fatto questo lavoro da CloudOn in particolare lo ha fatto su circa 10.000 documenti quindi anche quelli che dicono per esempio che LibreOffice non viene testato allora CloudOn lo testa su 10.000 documenti la Document Foundation lo testa su 56.000 documenti poi è ovvio che i bug scappano fuori uguale quando uno ha 100 milioni di utenti e tra questi ci sono 500.000 utenti del governo francese ai quali arrivano i documenti prodotti da aziende è ovvio che poi il bug viene fuori lavoriamo la maggior parte di loro lavora purtroppo con formati non standard e chiaramente quando si lavora con i formati non standard i problemi ci possono essere lo stesso tipo di lavoro nonostante CloudOn ancora non abbia implementato LibreOffice per il foglio elettronico e la presentazione ma lo sta facendo lo stesso lavoro è fatto anche su questi qui e la cosa buffa è che ieri mi hanno mandato un file se volete non c'entra nulla la cosa questa è veramente buffa allora mi hanno mandato un file fatto con Microsoft Office 2007 per Windows io lo apro con Microsoft Office 2011 per Macintosh e come vedete bellissimo un robot che non che non c'è vi assicuro che c'era perché LibreOffice lo apre bene come vedete questo è LibreOffice c'è il grafico Office documento di Office 2007 per Windows Microsoft Office 2011 per Mac non è in grado di leggere lo stesso formato allora che Office OpenXML non sia un formato standard ci arriverò non lo è però voglio dire LibreOffice riesce anche a gestire come dire le eccezioni l'ho provato anche adesso dovete fidarvi di me l'ho provato anche con LibreOffice per Windows funziona io ieri siccome me l'ha mandato tipo ieri sera alle 7 ho detto lo metto nella presentazione domani perché chiaramente è la dimostrazione non che LibreOffice sia superiore ma della qualità del lavoro sulla compatibilità Office OpenXML che è stata fatta sì Office d'altronde ha un formato diverso poi vabbè queste sono nuove funzionalità è stato fatto del lavoro sull'aspetto grafico sulla user interface dovremmo fare di più sul fatto che bisognerebbe fare di più siamo tutti d'accordo il problema è trovare le risorse e il tempo per farlo quindi è ovvio che però per esempio queste cose il conteggio dei caratteri in tempo reale San all'epoca aveva detto è impossibile farlo non è vero che è impossibile farlo se tu togli le librerie che ti impediscono di visualizzare i numeri in tempo reale e le sostituisci con delle librerie che te lo fanno visualizzare lo puoi mettere anche dentro LibreOffice è ovvio che se tu sei innamorato a librerie che sono deprecate dal 2001 e questo è un problema compatibilità con il protocollo CMIS questo è un protocollo standard chiaramente è stato fatto del lavoro questo supporto sta migliorando c'è il supporto per Google Drive e in LibreOffice 4.4 lui sta già facendo sì perché lo sa perché si è preparato in anticipo ma si potrà lavorare direttamente sul server di SharePoint e anche su quello di OneDrive per cui la situazione adesso è questa qui che questo è Office e questo è LibreOffice come vedete i sì di compatibilità con i vari sistemi di document management sono molto maggiori che poi funzioni tutto al 100% non lo so però è fondamentale e noi italiani non siamo tra i migliori e in questo caso vi direi se se siete di buona volontà di interfacciarvi con Tommaso Bartalena che è dentro questa stanza anche se fa il timido e non alza la mano ma la deve alzare perché lui è uno dei top bug squasher di LibreOffice quindi credo che la cosa più sensata sia quella comunque di fare gruppo siccome Tommaso è riconosciuto per quello che fa se avete dei dubbi io ho il sospetto che Tommaso sia in grado di darvi una mano su come segnalare un bug come fare il triaging dei bug di come classificarlo e così via Marina ovviamente è in grado di farlo anche lei però facciamo anche di allargare questa comunità noi abbiamo dovuto organizzare la conferenza a Bologna per aver Tommaso per avere per avere Walter Mural dovremmo far Cagliari la prossima tanto ci arriviamo perché comunque sappiatelo allora io non credo che ormai lo sappiano tutti io sono Umbro Sonia Presidentessa è Umbra Marina Vice Presidentessa è Umbra Andrea Consigliere Umbro Gabriele Consigliere Umbro quell'altro lì che è consigliere anche lui che adesso si è dato per non farsi citare Alfredo Parisi lui ormai è Umbro di adozione abbiamo la testa più dura del granito io ho le prove ho appena scassato un termosifone con la testa quindi se vuole ho le foto ho le foto era di alluminio sì però quando era di alluminio ok però quando è arrivato l'idraulico ha detto è il primo che vedo che rompe il termosifone con le corna voglio dire per cui e io non mi sono allora non mi sono fatto voi potreste dire sei stato sei svenuto no allora io sono caduto ho preso il termosifone mi sono storto il ginocchio mia moglie è arrivata ha detto ti sei fatto male la testa io ho detto no mi fa male il ginocchio io non mi è venuta neanche la ficozza per cui la prossima volta provo con quello di ghisa perché ce la potremmo anche fare ginocchia purtroppo sono conciate male per altri motivi quindi quello la velocità di libre office allora stesso discorso di prima se uno inizia a modificare il motore di calc ci fa casino non casino intendo ci lavora purtroppo l'effetto collaterale è che calc diventa progressivamente più lento però poi uno a un certo punto dice ci metto le mani e calc diventa veloce è ovvio che più bug vengono segnalati più cose vengono dette più gli sviluppatori sono in grado di capire anche le problematiche cosa è stato fatto è stato ridisegnato il core di calc questo questo dice ai tecnici ai non tecnici dicono che a me piacciono perché io non sono un tecnico quindi a me questa non dice nulla ma questa allora prima calc faceva tutto sto puttanaio quando uno inseriva un numero cioè faceva tutte queste verifiche adesso fa questa è più veloce ovviamente cioè non ci vuole ve lo capisco anche io tanto che questo è la situazione cioè la reference vi potete immaginare si chiama excel quindi in questo momento calc 413 apre quindi no scusate calc 413 è più veloce in alcuni casi nell'apertura di alcuni file dello stesso excel di file excel chiaramente qualità del codice allora questa qui è la allora qui siamo a uno tutti i software che hanno meno di un difetto per mille righe di codice sono considerati da coverity che è l'azienda che fa questo 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 come dire questo benchmark sono considerati ottimi software LibreOffice era 0,08 il software proprietario è un po' peggio del software libero come vedete kernel linux samba e c'è firefox thunderbird fino all'altro ieri questi sono gli ultimi sono gli ultimi benchmark questo se volete ve la posso mandare io perché sono accesso a coverity non se voi entrate nella pagina coverity di LibreOffice senza avere accesso non vedete tutti questi numeri avevamo 0,01 20 novembre adesso 23 novembre ripeto 0,002 scusate 0,02 quindi siamo sotto lo 0,01 per dare un'idea in termini come dire pedestri per un essere umano come il sottoscritto un errore ogni mille righe di codice equivale a un errore di battitura ogni 40 pagine dattilo scritte 0,1 errori equivale a un errore di battitura ogni 400 pagine dattilo scritte questo equivale a un errore di battitura ogni 4000 pagine dattilo scritte allora è praticamente una cosa inumana nel senso che non esiste dattilografa se dovesse scrivere 4000 pagine che fa un errore di battitura ogni 4000 pagine ma e questo chiaramente non significa che i bug sono 0 0 0 questo significa che la struttura del codice di libre office è esente da riferimenti incrociati sbagliati da righe di codice morte da cose che sono qualitativamente nel codice mettono la qualità del codice a repentaglio e questo fa sì che ovviamente se uno sviluppa codice su una base così fa gli errori quindi fa i bug solo se sbaglia ma non tanto per i riferimenti incrociati gli manca cioè va a pescare un riferimento incrociato non documentato qui non ce ne sono più come vedete ci sono ancora 21 errori su 10 milioni di righe di codice sono pochini e sono ripeto sono io non sono un tecnico poi se volete vi faccio avere una una spiegazione specifica ma sono cose che riguardano la qualità proprio del codice sorgente diciamo che un codice è pulito è in questo momento è il prodotto che il codice più pulito in assoluto questo è sul master della 4.4 quindi è la prossima versione di libre office ovviamente si fa sull'ultima versione marcia del world a suo tempo aveva detto che libre office aveva qualche problemino perché perché la prima volta se ne installa sei installato la 3.4 e la 3.4 lo sappiamo poi sei installato la 4.2 e ha scritto mi sono ristallato la congratulazioni perché ha fatto lips and bounce che in inglese significa fatto passi da gigante quindi è un esterno tra l'altro un signore che con libre office non ha nulla di specifico a che vedere una carrellata veloce sui formati standard questo ovviamente non è tanto è più un'informazione tipo generale allora i formati standard cosa significa l'odf è il formato questi sono le estensioni dei file cos'è un formato aperto iso queste sono tutte cose che credo siano abbastanza è importante che il governo inglese ha standardizzato suo df la settimana prossima a londra lotto il 9 ci sarà una plug fest che significa una due giorni dove ci sono dentro un po tutti quanti quelli dell'ecosistema odf che vanno a testare la loro compatibilità io sono stato invitato direttamente dal governo inglese mi devo pagare le spese però perché comunque tutto vabbè me le paga la document foundation però credo che sia importante che questo perché perché nel momento in cui è stato preso è stata fatta tutto il lavoro di analisi io ho contribuito con una serie di informazioni sul sul formato odf da un lato sul formato office open xml dall'altro che sono state evidentemente considerate interessanti è un formato standard dente neutrale eccetera direi che si è scoperto proprio durante il processo di standi del governo inglese un fattore che era rimasto molto come dire che non era stato mai portato in evidenza perché perché si dava per scontato allora si dà per scontato che un software se salva in formato standard salva in formato standard non è l'utente a determinare il formato standard invece con microsoft office è l'utente a determinare il formato standard cioè office open xml non è agnostico nei confronti dell'utente se voi volete salvare il formato office open xml strict che è quello che si avvicina più allo standard pur non essendo ancora standard voi dovete aprire un documento prima di aver fatto qualsiasi cosa intendo anche inserire uno spazio lo dovete salvare in formato strict dopo di che dovete essere accertarvi ed essere sicuri che lungo tutta la catena del valore tutti gli utenti fanno salva con nome e salvano in formato strict perché se uno solo salva in formato di default passa al transitional e a quel punto tra l'altro microsoft office va in casino nel senso che parola se salvate excel proprio le date inizia a non capirci più nulla sul mio blog c'è un post del quale su dove racconto tutto quanto e chiaramente la risposta di quelli di microsoft che è quella che ci ha fatto capire questo questo stretto legame tra l'utente e lo standard è stata che avevo sbagliato io perché non mi ero comportato secondo quello che il software voleva e io gli ho detto cioè non diciamo idiozie l'utente quando uso un software ha sempre ragione l'utente ovviamente può fare n mila errori ma se io salvo con libre office o con apache open office o con calligra o con abi word o con numeric nel formato df io salvo sempre nel formato df non è che l'utente deve accertarsi di salvare in formato standard oppure no l'utente deve essere tranquillo che il formato è quello che corrisponde e questo è stato uno dei fattori determinanti per la scelta del governo inglese perché ovviamente potete immaginare ed è stato anche scritto chiaramente da computer weekly le attività di lobby che microsoft ha fatto per poter avere come formato accettato anche office open xml quindi chiaramente formato è aperto e così via l'odf è un contenitore quindi voi avete sotto un xml queste sono poi guardate le slide tranquillamente quello che è importante capire questi sono gli elementi dello standard allora il supporto di odf 1.2 da parte di microsoft office 2013 è un supporto che definirei adeguato quindi si può chi usa microsoft office 2013 e vi dice non riesco a leggere odf sta dicendo una cosa non vera è chiaro che microsoft fa in cerca di fare in tutti i modi perché lui non salvi in odf ma in realtà lui lo può fare e quello che è importante capire questo è un importante aspetto educativo che secondo me abbiamo noi tutti noi intendo se siamo in questa stanza è perché credo che abbiamo qualcosa a che vedere con libre office o col formato odf è che il passaggio da un mondo di non standard quindi quello a cui siamo abituati negli ultimi 25 30 anni a un mondo standard presuppone dei compromessi dei trade off è certo che qualsiasi formato standard sarà probabilmente diciamo come ricchezza di funzionalità inferiore a qualsiasi formato proprietario ma va bene il dobbiamo capire che noi usiamo un formato standard perché quello è l'unico che ci garantisce l'interoperabilità dire ma io posso inserire il video se quel video non è standard è sbagliato dovremo iniziare a capire che quel video non si inserisce in un formato standard gli utenti dovranno abituarsi a costruire documenti che sono che rispondono allo standard e quindi devono capire le font attraenti no le font vanno standardizzate si usano font libere non è casuale che le 6 font che microsoft ha introdotto nel 2007 quando ha introdotto office open xml siano 6 font proprietarie protette da 13 brevetti font delle quali microsoft ha acquisito i diritti a livello mondiale sono calibri cambia candara consola scorbel e constanzia le so a memoria perché ormai sono diventate non le dico tanto in ordine perché mi sbaglio un po ma comunque per cui noi passiamo in realtà c'è pensiamo di aver dimenticato il concetto della nessuna interoperabilità che è questa formato non documentato ma il doc non è diverso da questo cioè se tu me lo fai in graffiti o me lo fai in doc e non me lo documenti il formato è lo stesso 3 mila anni dopo 5 mila anni dopo ma il concetto e lo c'è la semantica è la stessa non c'è quindi poi passi a una falsa interoperabilità perché tu vai un interoperabilità che è basata sul non standard allora uno pensa ma io ti sto mandando un documento che tu riesci a leggere sì ma stiamo tutte e due ragionando su un formato che non è standard e questo è profondamente sbagliato io poi sono diventato anche cattivello nei confronti di quelli che mi manda che mi dicono perché c'è un signore che mi ha telefonato ma detto la smetta di rompere le palle di sui formati istanti ho detto lei allora comprendo i suoi problemi perché con la sua affermazione mi sta è seduto mi fa perché dico perché lei avendo detto questa cosa c'è un solo neurone quindi per sentirmi si metta seduto perché sennò utilizza il neurone per l'equilibrio e quello che dico non lo capisce mi ha riattaccato vabbè il che dimostra che forse non c'era manco quel neurone perché non l'ha proprio capita e esatto allora ma io lo dico per allora io lo dico per come dire nozione personale io ho 60 anni perdo come tutti neuroni da quando ne ho 22 quindi sono 38 anni che perdo neuroni ce ne ho sono partito bene fortunatamente ma ne sono rimasti pochi quindi ho imparato a economizzare io ai neuroni green pratica me per cui sono vanno con le cellule solari eccetera quando la gente mi dice ma cosa significa il bug dell'anno bisestile significa un bug conosciuto dal 1979 perché era dentro visica che se uno nel 2014 non l'ha ancora risolto sono problemi suoi non devono essere problemi degli utenti e invece microsoft è talmente brava che riesce a girare sugli utenti problemi che sono problemi del formato non va bene queste sono le font che dicevo prima vi invito allora questo è un invito formale andate a leggere la pagina che parla di font clear type su wikipedia prendete tutti i brevetti vi scaricate i pdf sono scritti sono un capolavoro di linguaggio legale sono un capolavoro se sarebbero veramente bisognerebbe dargli il nobel per il linguaggio legale perché non si capisce li ho letti con carlo piana alcuni giorni fa non si capisce c'è carlo piana io voglio dire c'ho pochi neuroni e non sono avvocato carlo c'ha più neuroni di me è avvocato ma non si riesce a capire quello che dicono si riesce solo a capire chiaramente che maio fa quel cazzo che gli pare con col con le font quindi la vera interoperabilità è dal fatto che noi ci scambiamo i documenti senza pensare che software abbia altra persona cioè io non devo chiedere a te ma lo leggi doc x no io ti mando un documento e tu lo leggi perché sei compatibile odf perché odf è standard sulle font perché c'è gente ma detto ma le font libere non ci sono allora qui sono 629 ma adesso sono 656 le google font e non è questa una sponsorizzazione di google ma google ha fatto un'operazione secondo me fantastica perché per queste 600 font google si è si è assicurata di avere non solo la font con i disegni eccetera ma anche le liberatorie dagli autori delle font ma anche le la lettera che dimalleva sulla proprietà intellettuale quindi se voi vi clonate il repository che è su git avete le 600 font le cartelle prendete quelle cartelle ve le zippate quelle cartelle le potete dare a chiunque sapendo che voi siete legalmente totalmente ineccepibili quindi un ente che vuole standardizzare prende un po di queste font mica tutte e 600 voglio dire quando ne hai prese 15 sono più che sufficienti le zippa e le dà a tutti i suoi interlocutori dicendo da domani usa una di queste font le puoi usare sono legali eccetera ma quando mi mandi il documento siccome io le stesse font le installo su tutte le mie macchine i documenti li vedremo esattamente nello stesso modo qualcosina può cambiare però voglio dire cambia veramente poco quindi e i formati per interoperabilità o di o di nel caso del testo di ti ha consigliato questi sono accettati ma è una situazione transitoria cioè dire mandamelo in in doc x significa tu mandamelo io ho un software che riesce anche a leggere il tuo formato ma non è corretto usare quel formato perché me lo stai mandando in un formato non standard e queste sono è un confronto specifico c'è office open xml nonostante sia stata chiesa nel 2008 non ha nessuna implementazione nativa libera questo non dovrebbe essere standard uno standard che non ha un implementazione nativa libera è un assurdo è come se voi dite facciamo scherzavamo con andrea bassini a bolsano sul fatto io ho detto ma sei sicuro metti il il l'alimentatore del telefono nella presa dico perché se non è standard lui fa dice no ma lo so che è standard ho detto cioè il bello degli standard è che noi prendiamo l'alimentatore del telefono lo mettiamo dentro una presa in italia in inghilterra negli stati uniti in australia sono quattro tensioni e voltaggi diversi ma l'alimentatore da solo perché è standard ci sistema tutte le varianti gli standard sono questi è ovvio che probabilmente il 160 a 72 hertz potrebbe essere una corrente elettrica migliore però non è standard non esiste e allora usiamo gli standard è che sull'hardware è facile perché gli standard ti vengono di fatto imposti sul software l'utente deve diventare parte dello standard il problema di office open xml è questo è che non si lo standard impone una cesura cioè c'è un giorno che si dice da domani facciamo lo standard gli svedesi non so se lo sapete ma nel cintorno al mille io ero già nato intorno al 1966 qualcosa del genere hanno deciso di passare dalla guida a sinistra alla guida a destra non è che hanno detto per sei mesi facciamo una roba così ognuno va dove gli pare hanno detto da stanotte si cambia corsia cioè è ovvio che le macchine quelli che avevano la macchina con la guida a destra perché guidavano a sinistra e si sono trovati a mal partito finché non hanno cambiato macchina e però non è che quelli dice no perché tu c'hai la guida a destra guida pure a sinistra perché tanto poi cioè ma non scherziamo cioè gli standard significa che se adottiamo uno standard automaticamente tutto quello che non è standard viene deprecato quindi il fatto di scrivere una cosa del genere è assoluto e che lo scrivo un signore che che fa parte di ecma è sbagliato cioè non dovrebbe dirlo dovrebbe dire non vogliamo rinunciare quindi non facciamo lo standard che è la realtà se vuoi farlo standard devi dire da domani ci dispiace i vecchi documenti ti do il convertitore ma sono sono più standard ultima cosa la certificazione allora anticipo che ci sono in questa stanza alcune persone che centro mettiamola così 15 dicembre non mi mandano la domanda di certificazione e le persone che la possono mandare lo sanno da soli non c'è bisogno di riguardi non solo non gli faccio gli auguri di natale ma non si è dignifughi ok quindi esatto per posso anche via capocciate lui parla facile perché già certificato 15 però voglio dire il la certificazione è marina che non c'è dove marina 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 è l'unica che ha fatto il vero esame di certificazione era un po imbarazzata però devo dire anche perché abbiamo parlato un'ora un'ora circa un'ora in inglese circa un'ora in inglese però devo dire se la cavata che legge a mente gli altri lo sanno benissimo che l'inglese non è la nostra lingua madre quindi evitiamo di pararci dietro ma io non parlo inglese allora intanto nel nel comitato di certificazione io ci sono sicuro e c'è soffi gotier che c'è sicuramente e siamo entrambi sappiamo benissimo cosa significa la comunità quindi non è che vi stiamo a fare un esame di lingua prima cosa è seconda cosa potremmo avere visto che marina e stefano fanno parte del gruppo dei revisori organizzarci per avere loro in modo da avere un supporto in italiano ma non paratevi dietro al fatto ma in inglese non so cosa dire non so che documenti mandare se c'è uno che me lo riscrive un'altra volta e lui sa chi me lo ha scritto sa chi è se me lo riscrivo un'altra volta no conosco anche che macchina c'ha quindi voglio dire esatto per cui allora programma di certificazione molto semplice c'è un project management ci sono quattro cinque aree ma diciamo che poi queste due sono praticamente la stessa cosa la discussione è stata importante io ho iniziato a parlare di certificazione nel 2007 2008 all'inizio mi avevano detto che ero pazzo ma siccome ho la testa dura del termosifone di cui prima alla fine poi ci sono riuscito cosa significa significa che le persone che fanno i progetti che li gestiscono in un certo modo devono essere riconosciuti perché perché il software libero purtroppo parte è come il golf parte ad handicap ma perché ma per per un motivo semplicissimo non è che parte ad handicap perché è meno buono parte ad handicap perché il software libero a budget di comunicazione inferiore al software proprietario e quindi il software proprietario è in grado di stabilire che la certificazione fatta in un certo modo è intrinsecamente più buona semplicemente perché ci mette su più soldi ma questo non vuol dire non è la realtà allora noi dobbiamo combattere il software proprietario con le stesse armi dare a chi sa fare il lavoro una certificazione che chiaramente non garantisce nessuno voglio dire non è che uno certificato sisco è in grado di farvi la rete migliore del mondo probabilmente vi fa una rete decorosamente buona ma non la migliore del mondo è inutile che sisco dice che la sua certificazione è migliore di quella di giupiter o di quella di extreme network non è vero ciascuna certificazione ha le sue caratteristiche ovviamente uno va a vedere però chi è bravo chi ha competenze delle migrazioni che ha competenze nel training quella del supporto partirà nel 2015 devono essere riconosciute perché altrimenti se no ci troviamo di fronte a una pletora di persone che ti dicono che sanno fare queste cose perché comunque sanno cos'è il software libero ma in realtà non le sanno fare dobbiamo avere un benchmark per forza semplicemente perché il mercato pensa che la certificazione sia il benchmark di qualità è inutile che ci mettiamo a discutere dicendo ma non è vero perché chi ha chi ti dà il diritto di certificarmi nessuno me lo dà ma a questo punto voglio dire che cosa facciamo andiamo al big bang per capire chi è chi ha il diritto di essere certificato quindi è stato creato un programma di certificazione questo è il sito il l'indirizzo del document foundation org certification c'è l'application c'è l'elenco dei dei sviluppo dei dei certificati ci sono i documenti di riferimento c'è una bibliografia sicuramente c'è da studiare un po però voglio dire non è che uno può pensare di avere un riconoscimento senza aver nessun tipo di di perlomeno di leggersi un po di cose ripeto non è che uno deve sapere cos'è l'end user life cioè deve sapere a memoria cos'è l'end user license agreement di office però io mi aspetto che una persona che è certificata sulle migrazioni un po lo sappia che cosa c'è scritto dentro perché se no non vedo perché dovrebbe essere certificata è importante perché una risposta è una domanda che l'azienda che passa da office a libre office vi farà qual è la differenza sulla licenza quali sono i problemi che mi dà sottoscrivere una licenza piuttosto che l'altra le font e bisogna saperlo che le fonte hanno dentro dei brevetti c'è scritto tutto e ci sono non è che sono tutte cose poi rispondiamo agli email in modo talvolta educato in alcuni casi un pochino più brusco diciamo io sono dipende da allora quando scrivete a me in alcuni casi come dire incrociate le dita perché potrei rispondere in modo come dire leggermente secco però dai in realtà chi fa domande coerenti non rispondo mai quello l'abbiamo già sistemato beh in realtà non viene fatta su una versione del software in modo specifico diciamo che il training si presuppone che sia fatta sulla versione su una perlomeno diciamo delle ultime due su quelle che sono in quel momento o la nuova fresh o la stable però una delle due poi è ovvio che non ma il discorso non è che la certificazione non è che se tu io ti chiedo come si fa il mail merge in te lo dico lo me lo devi saper dire il problema è che devi dimostrare di avere confidenza con il prodotto con perché poi voglio dire tutti quelli che fanno training nel momento in cui devi fare un 30 e prepari quindi non è che puoi pensare cioè non è a domanda risponde il motivo per cui la nostra certificazione non ha le multiple choice è proprio questo noi le persone ci vogliamo parlare possibilmente le vogliamo guardare nelle palle degli occhi perché questo qui aiuta perché perché è importante perché diventano ambasciatori del progetto e quindi dobbiamo cioè io preferisco che una persona non sappia come si spiega una certa funzione ma che dica domani te lo so dire perché mi preparo ma che nel momento in cui deve spiegare cos'è il software libero e sappia cosa dirgli senza dubbi sui vantaggi del software libero rispetto a quello proprietario c'è un signore che mi ha chiesto di certificarsi scrivendomi che lui faceva i corsi su outlook e io ho detto mi dispiace lei non la certificheremo mai perché perché se lei fa i corsi su outlook io mi sono andato a vedere il corso e lei dice che outlook è il miglior programma di posta elettronica al mondo mi dispiace ci so abbiamo un problema cioè lei ha un problema perché perché mi sta dicendo che il peggior programma mai sviluppato da un quadrumane è il miglior programma di posta elettronica è il quadrumane lo sapete tutti io dico quadrumane per non dire animale perché offenderei più gente se dicessi sviluppato da un animale i quadrumani sono di meno siamo solo noi e le scimmie quindi offendo meno gente dicendo che è sviluppato da un quadrumane che da un animale ma outlook è un programma impresentabile il fatto che ci sia un'azienda che continua a venderlo secondo me è offensivo nei confronti degli utenti perché è così posso discutere per ore ho discusso con uno di microsoft per una giornata e quindi allora questo è il protocollo di migrazione ovviamente questo è un riferimento cioè il fatto che ci sia un protocollo ti dà un riferimento non è una un valore assoluto uno potrebbe dirmi per assurdo io lo faccio in modo totalmente diverso e adesso ti dimostro perché il modo con cui lo faccio io è buono tanto quanto il tuo mi sta bene se funziona se gli utenti che ha immigrato sono contenti se non hai creato problemi se non gli hai fatto estirpare microsoft office per il gusto di estirpare microsoft office mi sta bene quello non è un problema questo è una ipotesi di timing ma lo stesso cioè questi sono documenti che danno un riferimento ma semplicemente perché se non hai un riferimento non sai di che cosa stai discutendo ma va benissimo confutarmeli totalmente ovviamente la formazione c'è la formazione si fa in un certo modo ci sono mentre le migrazioni è un argomento molto meno codificato è la formazione è un argomento più codificato ci sono manuali c'è tutto quindi ovviamente siamo andati a vedere per il protocollo di riferimento quelle che sono questo è semplicemente un'organizzazione fatta da questo signor americano ma ce ne sono altri quindi però il concetto è lo stesso esigenze formative preparazione degli utenti l'ambiente di learning cioè non è che possiamo andare troppo distanti da una città un flusso di questo tipo e chiaramente training per funzione come vedete c'è sempre introduzione al free software introduzione al library office cioè non è che si può pensare di spiegare all'utente che passerà da microsoft office perché ovviamente questo training si presuppone che siano persone difficilmente ci troveremo un cento per cento di utenti che adottano libre office per da zero che non hanno mai usato un programma il primo programma che usano è libre office soprattutto in ambito aziendale troviamo gente che ha già usato microsoft office quindi sapergli dire perché le differenze tra il software libero il software proprietario perché libre office fai capire per esempio che libre office non è un prodotto sviluppato nei sottoscala come pensa qualcuno non certamente che è in questa stanza oppure a me è successo che sono andato a incontrare delle persone in un ente pubblico non avevano fatto perché trovare la mia foto è abbastanza facile non hanno fatto ricerche quando io mi sono presentato questo mi guarda mi fa ma lei è qui per parlare di libre office detto se vuoi parlare con itano vignoli io sono ci sono solo io al mondo con questo nome quindi se ma noi pensavamo che lei fosse un ragazzino cosa vuol dire no no ma ma non è un obiezione che non ha assolutamente senso perché è un'obiezione che ha dietro di sé il concetto che è fatto da quattro scotennati che si sono trovati la sera davanti a una birra che non è vero questi sono software che hanno un modello di business hanno un progetto di tipo industriale che poi dietro ci sia una fondazione non profit è una questione indipendente ma c'è un progetto di tipo industriale fatto per crescere che fino adesso è andato bene poteva andare male così come andato bene è questo che la gente deve capire non è una roba che è stata fatta da quattro amici perché che si sono trovati al delirium di bruxelles la sera prima del fosdem e hanno detto domani hanno bevuto tre o quattro delirium tremens che vi invito a testare se andate al fosdem ma che poi vi assicuro uscite con il delirium tremens dopo tre bicchieri è una roba fatta seriamente quindi tre lì per compito è ovvio che dipende dalla realtà in cui uno si inserisce può trovare anche modalità diverse probabilmente qualsiasi corso di formazione sarà un insieme delle cose questo è il gruppo dei revisori no io e sofì siamo i coordinatori ci sono un tedesco allora un 12 mi sono dimenticato già che lì remi pur c'è una terza tedesca brasiliano brasiliano nonostante il nome brasiliano marina e stefano olandese francese danese e basta vabbè sofì è chiaramente francese io sono lo dice il nome chiaramente italiano e quindi questo è il gruppo dei revisori l'esame viene fatto da tre persone non viene mai fatto da una persona sola viene fatto da tre quindi all'inizio ci saremo io e sofì più un terzo poi abbiamo deciso che probabilmente da aprile dell'anno prossimo io e sofì faremo i capi con altri due però prima vogliamo che il terzo diventi come dire si impratichisca nella nella cosa quindi ultimissima cosa questa è un po se volete l'arcobaleno di libreoffice siamo alla 4.3 2014 è appena uscita la beta della 4.4 la rc1 sarà fuori intorno a metà dicembre la rc2 all'inizio di gennaio verrà annunciata subito prima la 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 ci sarà un rc3 e la data di annuncio probabilmente sarà il giovedì prima del fosdem allora le date di annuncio le decido io e quindi è facile che sarà il giovedì prima del fosdem cioè no poi sviluppatori ovviamente potrebbero dirmi non siamo pronti andiamo una settimana dopo ma siccome sono io che scrivo i comunicati stampa e li rilascio e ovviamente si è sono riuscito sempre per la questione della testa come il termosifone a far capire che gli annunci li decide il marketing e noi sviluppatori c'è voluto un po ma poi ci siamo riusciti allora io decido la data gli sviluppatori fanno tutto il loro gioco sulla data che decido io il giovedì mi viene bene anche perché io poi giovedì sera parto per bruxelles e quindi il venerdì probabilmente a bruxelles vedrò dei giornalisti questi sono alcuni dei miei indirizzi mail io ho la fortuna o la sfortuna se volete di avere un nome che è abbastanza inconsueto quindi sono italo a libretalia libreoffice ad vignoli org da poco registrato vignoli org che sia liberato quindi adesso ho il dominio familiare di famiglia comunque o italo a italo vignoli.com italo italo vignoli.org italo document foundation italo vignoli document foundation li leggo tutti quindi non avete problemi cosa mai usato outlook poi se volete vi racconto il mio un aneddoto ma non no io ho lavorato in un'azienda americana che aveva 5.000 dipendenti e io su 5.000 ero l'unico che non usava outlook e ero l'unico che leggeva la posta elettronica sempre gli altri ogni tanto non la leggero e poi chiedeva ma tu perché io ho detto perché non uso outlook ma forse sai che c'hai anche ragione io ho detto no non forse c'ho ragione c'ho sicuramente ragione però era un'agenzia di relazioni pubbliche e dove la competenza del responsabile dei sistemi informativi era pari a quella di un criceto per cui voglio dire non la battaglia era persa d'amblevoli aveva le cartelle condivise di outlook fuori dal firewall per cui immaginate cioè non vi racconto è un feste ogni mattina c'era uno che mandava spammava tutti i dipendenti quindi 5.999 perché io li filtravo perché chiaramente c'era un virus in qualche email questi doppio clic email partiva tutta la mailing list che era sulle che aprivano le cartelle condivise dentro vi potete immaginare che cosa c'era cioè bisognava entrare col forcone dentro le cartelle condivise ma vabbè questi sono altri discorsi adesso chi è che c'è io ho finito grazie grazie grazie